la sconfitta della Pro allo stadio Biondi di Lanciano contro la Virtus una sconfitta maturata nel finale ma nata a partire dal termine del primo tempo quando l'arbitro Valerio Marini di Roma ha espulso Manuel Scavone dunque una Pro Vercelli in 10 per tutto il secondo tempo. Mister Foscarini ha provato a rimescolare le carte con alcuni cambi una partita comunque piuttosto scialba quando ancora la Pro era in 11 contro 11 la Virtus Lanciano ha fatto un po' più di pressione ma in realtà la partita avrebbe potuto effettivamente concludersi sullo 0 a 0 certo un risultato che non fa assolutamente bene alla classifica della Pro neppure al morale la prossima sarà contro lo Spezia però dobbiamo anche dire poche idee poche idee prestazione opaca di Faustinio e per il resto ancora una volta l'unica occasione e mi correggeranno caso mai avessi sbagliato gli amici qui presenti ospiti di corner questo pomeriggio i nostri opinionisti l'unica occasione capitata sui piedi di Marchi una girata che si è spenta alta sulla traversa incominciamo da Paolo Gagnone beh che dire di questa Pro Vercelli oggi è stata deludente sotto tutti i punti di vista la squadra è stata molle dall'inizio hanno giocato a ritmi bassissimi come non come Foscarini ha detto precedentemente in conferenza stampa di prima della partenza voleva una squadra in partenza in trasferta vogliosa Gagliardo e tutto e invece la Pro Vercelli di oggi non c'è stata secondo me abbiamo giocato male tutta la squadra è inutile parlare dei singoli dello schema del ha giocato male tutta la squadra se si gioca indipendentemente dall'episodio di Scavone che era dubbio sì non ci stava l'espulsione ma anche su 11 contro 11 non abbiamo mai dato l'impressione di voler vincere questa partita occasioni non ce ne sono state il loro portiere non è stato non è stato utilizzato quindi c'è poco da dire siamo preoccupati Carlo è vero ma altro che preoccupati guarda questa è stata una settimana tristissima prima con il problema dei cimeli della Pro Vercelli adesso con questa battuta a vuoto che proprio non ci stava va bene siamo ancora un punto in più del play out ecco abbiamo ancora un punto di vantaggio però chiaramente non possiamo continuare così il 3-5-2 che a me piace molto forse non era il giorno giusto per poterlo per lo provare perché i giocatori secondo il mio non è che hanno giocato male si sono trovati spaesati ecco non molto a loro agio perché probabilmente hanno bisogno di più tempo per assimilare questo tipo di gioco condivido la opinione sia di Paolo che di Carlo in effetti Foscarini ancora nell'ultima seduta a Vercellese prima della partenza per l'Abruzzo per Lanciano aveva provato un 3-5-2 piuttosto elastico d'altra parte mettere in campo tre centrali anche se poi in effetti Bani tendeva talora a porsi sulla fascia ma in realtà Bani legati e colì sono tecnicamente tre centrali e così hanno giocato con a centro campo Germano da una parte e dall'altra poi comunque una situazione rinfoltita dalla presenza di Castiglia di Scavone di Fausto Rossi allora cosa possiamo dire possiamo dire che così la Pro certamente non va e la classifica si fa estremamente pericolosa vero Marco? Beh sì perché praticamente se l'Ascoli dovesse vincere o anche solo pareggiare ci troveremo comunque quintultimi a pari merito quindi la situazione è piuttosto grave è una situazione che non è nuova perché già prima delle diciamo della pausa avevamo sottolineato che c'era sì più ordine come squadra più più utilizzo corretto dei giocatori però mancava assolutamente il gioco e questa mancanza era dovuta all'assenza anche di di giocatori di nuovi giocatori che potessero meglio interpretare diciamo le indicazioni di Foscarini questa è una questione molto molto delicata perché con questo tipo di gioco con un gioco che non è non che sviluppiamo non segniamo in attacco non siamo non facciamo pressio pressing a centrocampo e quindi i diciamo i goal sono sempre episodi e non sono mai frutto di una costruzione di un gioco lineare e coerente. Ti ringrazio qualche tifoso amico che abbraccio fortissimo ancora prima della gara mi ha mandato qualche messaggio mi ha detto questa pro così come messa in campo come nell'ipotesi che poi si è sviluppata sul terreno di gioco disposta simile a quella pro che a Frosinone aveva affrontato i padroni di casa e non era uscita benissimo una pro molto timorosa probabilmente Foscarini consapevole di quella che è l'attuale forza della squadra è una squadra che noi ricordiamo ancora prima dell'avvio del mercato del calciomercato di gennaio Foscarini aveva sottolineato a Bisognaghi di un paio di elementi di qualità due sono andati Matute e Luperini Beltrame oggi non era neppure in paghina indisponibile a questo punto però forse sarebbe stato meglio così come ha fatto il Lanciano avere a disposizione nell'immediato giocatori freschi provenienti comunque dalla sessione del calciomercato di gennaio le opinioni dei tifosi certamente non mutano ci sono quelli che comunque a prescindere sostengono l'operato la squadra innanzitutto e l'operato societario questo è giusto però è anche opportuno sottolineare che in questo modo noi abbiamo preso una china discendente che potrebbe ulteriormente avere un'accelerazione negativa nella prossima gara interna con lo Spezia l'opinione di Massimo Vignano. Sì assolutamente sì manca qualità questa rosa io credo che Foscarini non sia contento della rosa che ha attualmente a disposizione oggi non si è fidato di Sprocati perché se ha cambiato lo schema di gioco proprio perché forse non aveva nessuno dei due esterni titolari dalla parte destra e ha lasciato fuori Sprocati e ha messo Germano come ala destra sicuramente mancano degli uomini per questo Provercelli e in attacco abbiamo una sterilità notevole la partita è un po' sfortunata perché magari se Scavone invece che con la frangia la toccava con la fronte la metteva dentro la palla non gli cadeva sul braccio non veniva espulso però insomma un po' di sfortuna ma anche poca poca qualità. E allora concludiamo con una domanda che sarà comune a tutti che cosa vi attendete quale provi attendete quale reazione vi attendete dalla prossima gara interna con lo Spezia. Incominciamo da Paolo Gagnone. Io spero che mettono in campo i giocatori quella grinta quella cattiveria agonistica che ci contraddistingue nelle nostre gare casalinghe che in casa siamo un'altra squadra noi giochiamo anche quando abbiamo perso con le squadre il gioco l'abbiamo sempre fatto le occasioni le abbiamo create quindi in squadra giochiamo spero che con lo Spezia quella cattiveria e quell'agonismo con l'attuale rosa che è deficitaria in attacco tutto quello che si vuole però in casa siamo un'altra squadra speriamo con lo Spezia di fare la solita prestazione casalinga. Grazie Paolo. Carlo Ribadisco quello che ha detto dobbiamo soffrire io pensavo quest'anno di non soffrire invece anche quest'anno soffriamo e soffriremo penso fino al 20 di maggio. Vabbè mettiamoci dunque il cuore in pace perlomeno su questo concetto soffriremo comunque fino alla seconda metà di maggio. Marco trovi condivisibile questo pensiero? Eh sì direi proprio di sì perché se non ci saranno investimenti cospicui e anche probabilmente anche se ci fossero non è detto che siano fruttuosi vediamo un po' diciamo il se noi andiamo ad analizzare per esempio la collaborazione con la Juventus è stata pressoché fallimentare e quindi forse anche è anche complesso andare a trovare dei giocatori forti a gennaio ecco quindi sicuramente dovremmo soffrire certo non pensavo che fossimo così ehm malinarnese come come gioco ecco questo sì. Grazie Marco. L'ultima domanda a Massimo che integrò con una ulteriore appendice. Abbiamo detto abbiamo chiesto che pro ti aspetti con lo Spezia se ti aspetti qualche integrazione immediata dal calciomercato se ritieni che questa sconfitta a Lanciano possa costituire un'ulteriore molla una molla in più per la società una molla utile ad intervenire direttamente sul mercato subito. Sì me lo aspetterei. Diciamo che stessi siamo risparmiati una sola cosa con questa sconfitta non è vedere alla società dichiarare siamo a posto così. Grazie grazie Massimo noi restiamo comunque fiduciosi e concludiamo con il consueto Forza Pro. Forza Pro. Forza Pro.